Eccoci tornati da voi dalla sala streaming di Investing Roma 2024. Sto leggendo ovviamente sempre i vostri messaggi. A che ora vi collegate? Ci siamo scollegati, questo mi fa un enorme piacere. 30 secondi e subito vi siete preoccupati, ve l'ho detto fin da questa mattina, andiamo avanti fino alle 18 con i saluti poi finali di Pietro Di Lorenzo, con il quale abbiamo aperto questa edizione di Investing, peraltro 10 anni, e quindi un anno importantissimo. Andrea Busi, buongiorno, amministratore delegato di RECTA. Buongiorno. Buongiorno, bentrovato. Chiacchierata prima dell'intervento, sa perché? Perché ovviamente poco fa noi stavamo già un po' parlando dei temi che affronterete nell'intervento che tra poco, insomma, terrà sicuramente attaccati ai PC, agli smartphone, i nostri amici, perché parlavamo del futuro, no? E allora, per esempio, c'è chi scrive, beh, la pianificazione finanziaria è fondamentale, piuttosto che, Paolo, divulgare l'educazione finanziaria è un lavoraccio, perché si diceva che c'è un'importanza estrema nel prendere coscienza di quello che dobbiamo fare per il nostro futuro, ma contemporaneamente c'è anche questo scoglio enorme, no? Dell'educazione finanziaria che sembra solo essere per gli addetti al settore. Noi lo sappiamo che ci lavoriamo all'interno, la difficoltà è proprio divulgarla. Allora, partiamo da questa considerazione molto generale, poi cominciamo ad anticipare anche un po' gli spunti del vostro intervento. Sì, allora, diciamo che il tema dell'educazione finanziaria è un tema che è salito alla ribalta soltanto di recente, ancora poco affermato in Italia. Secondo la nostra esperienza si sta diffondendo soprattutto tra il pubblico più giovane, che, per collegarmi a quello che hai detto tu, è la parte della popolazione più preoccupata dalle incertezze che riserva il futuro. E quindi, poiché un modo di affrontare queste incertezze è, ad esempio, l'investimento progressivo per tutelarsi di fronte ai problemi previdenziali che ci sono all'orizzonte nel nostro Paese, noi abbiamo visto che con l'educazione finanziaria un sempre numero maggiore di persone si avvicina al mondo degli investimenti e comincia a prendere confidenza e ad investire in provisione, soprattutto, delle prospettive future. Questa è una bella notizia. Quindi significa che i giovani di oggi, pur essendo lontani dal momento della pensione, però cominciano a ragionare su come costruirsi il futuro. Questo è già un ottimo spunto. Significa che, magari anche indirettamente, passatemi questo termine, l'educazione finanziaria comincia a entrare nel DNA, fa parte del DNA, no? Dico bene? Sì, per quella che è la mia opinione, l'educazione finanziaria dovrebbe essere materia di studio nelle scuole, fin dalle scuole primarie. I giovani si avvicinano al mondo della finanza perché lo ritengono un mondo interessante, affascinante, appassionante, e l'educazione finanziaria è chiaramente lo strumento principale per consentire a loro di capire quali sono le dinamiche dei mercati e quindi approcciarsi agli investimenti. Noi, dal nostro punto di vista, abbiamo visto progressivamente una preferenza per quelli che sono, ad esempio, gli strumenti finanziari, gli ETF. E insieme ad essi i PAC, i piani di accumulo, appunto, fatti in una prospettiva futura, a lungo termine, per, come dire, contrastare quelle che sono le tendenze. Certo, ma infatti, infatti, il vostro intervento verterà proprio su questo. Prenditi cura dei tuoi investimenti con Directa. Peraltro Michele scrive, grazie a Directa per il PAC gratuito, dopo probabilmente emergerà anche, però già, vede, arrivano dei messaggi. E, insomma, pianificare il futuro in modo semplice, questo è un po' il vostro spunto, e, indipendentemente dalla cifra che si ha a disposizione, come dire, piano piano, no? Come delle formichine mettere da parte. Questo è un po' il messaggio che volete lanciare? Sì, assolutamente. Questo è il messaggio, e soprattutto poi, per quanto riguarda la componente più giovane della popolazione, si sa che è anche quella che detiene la minor quantità di ricchezza, tipicamente. Perché la precarietà del lavoro odierno, le abitudini di vita, fanno sì che i giovani d'oggi abbiano meno opportunità e possibilità di risparmio rispetto a quelli che erano i giovani di 20 o 30 anni fa. Da questo punto di vista, il non aver imposto, ad esempio, da parte nostra, cifre minime di investimento e consentire a ciascuno di operare, investire poco alla volta, appunto accumulare in prospettiva futura, si è rivelato questo strumento assolutamente adatto soprattutto alle nuove generazioni, ma non solo, anche a quelle più adulte che hanno ugualmente apprezzato questi piani di accumulo. Insomma, senza troppi vincoli, perché ovviamente bisogna anche riuscire a evolvere, no, le proposte, gli strumenti a seconda del mercato di riferimento e di conseguenza anche delle persone che fanno parte del mercato di riferimento. Questo è importante. Senta, Busi, tra poco con Stefano Bargiacchi e Christophe Grosset, che sono già accomodati e tra poco davvero vi do la parola. affronterete proprio questo, vuole lasciare un messaggio in particolare agli amici di Investing che non sono qui in presenza, la sala si sta già riempiendo, ma che comunque davvero da questa mattina stanno partecipando attivamente. Beh sì, io ho visto una grande partecipazione, grande entusiasmo, le sale piene. Faccio i complimenti agli organizzatori di questa manifestazione, che ormai da dieci anni si colloca al centro del tema degli investimenti in Italia e faccio i migliori auguri per il futuro e per le prossime edizioni. È arrivato anche un suggerimento per diretta, io lo leggo, Giampi scrive, disponibilità di PAC anche bimestrali o trimestrali. È un suggerimento che un amico si sente di condividere qui, mentre lei sta ancora parlando con me. Allora, diciamo che noi abbiamo proprio di recente annunciato alcune novità sui PAC che non rivelo adesso per non togliere la saspen successiva. Raccogliamo tutte le indicazioni. Ringrazio di questo suggerimento. Per noi i clienti sono la prima fonte di informazione per progredire, per migliorare, per svilupparci continuamente. E quindi auspico che arrivino altri messaggi di questo genere in maniera tale che noi possiamo migliorare per soddisfare sempre al meglio quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. Assolutamente, io sono d'accordissimo. Se dovessero arrivare altri messaggi, visto che la chiacchierata l'abbiamo fatta prima, li consegnerò direttamente all'amministratore delegato di diretta, non vi preoccupate, anche se magari non sentirete leggerli, li consegnerò, soprattutto se sono indicazioni e proposte. D'accordo, restiamo così. Grazie. Grazie Andrea Busi, allora può accomodarsi al tavolo dei relatori, così iniziamo subito con il vostro intervento. Grazie. Grazie, buona giornata. E allora Andrea Busi, come detto poco fa, Stefano Bargiacchi e Christophe Grosset, li vedo già, ecco, si stanno accomodando, quindi giusto qualche secondo per passare la parola a loro. Voi utilizzate la nostra live chat, come avete sentito, insomma, se avete delle domande proposte, io le girerò poi ai nostri relatori, avranno modo di comunicare con voi anche in un secondo momento, quindi non necessariamente in questa sede, dove mi rendo conto, non è possibile proprio sviscerare tutto, però noi cerchiamo di fare il possibile, anzi grazie ancora per la vostra collaborazione. Bene, vedo Stefano Bargiacchi con il microfono, Christophe Grosset, buongiorno, a voi la parola.